L'Abruzzo è sempre più presente sul piccolo schermo. Questa sera infatti alle 21.25 sulla Nuova Rete 4 parte la prima puntata di Freedom, Oltre il confine, che sancisce l'esordio di Roberto Giacobbo in Mediaset e di altre professionalità del territorio nel campo della produzione video e televisione. Roberto Giacobbo e la Contenuti SRL, casa di produzione per la trasmissione Freedom, hanno infatti affidato il ruolo di direttrice di produzione all'aquilana di adozione pescarese di nascita Sonia Fiucci, cofondatrice della Film Commission L'Aquila Gran Sasso, che si è occupata della realizzazione di numerose ricostruzioni storiche girate in prevalenza in Abruzzo e di assistenti operatori come Antonio Germana Dorazio e varie comparse figuranti. Per la ricostruzione dell'apparizione della Madonna di Guadalupe, che vedremo nella puntata del 27 dicembre, la produzione ha girato parte della vicenda a Sassa e all'Aquila, coinvolgendo ad esempio nelle riprese il parroco e altri figuranti del posto. La prima serie terminerà per metà febbraio, ma è già prevista la realizzazione di una seconda edizione da 12 puntate. L'Abruzzo è sicuramente un territorio che è ricco di queste cose. Ricordo una volta su un sito internet si diceva quali di queste immagini sono dell'Abruzzo e quali del Tibet. Bene, molti hanno provato a rispondere. La verità è che tutte quelle splendide immagini erano solo dell'Abruzzo. E devo dire che, ringraziando la Film Commission per l'Aquila e il Gran Sasso, abbiamo ricostruito proprio in quei luoghi tanti sapori, tante emozioni che poi abbiamo incastonato in servizi anche molto diversi. La nostra Italia, e in questo caso l'Abruzzo, è piena di sorprese.